Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano c'era anche una coniata del boss Savino Parisi tra i candidati alle elezioni comunali di Bari nel 2019, quelle che sarebbero state inquinate dai voti comprati per garantire l'elezione di Marilo Russo, moglie di Giacomo Olivieri, l'ex consigliere regionale intorno a cui ruota l'inchiesta Codice Interno. Ce ne parla in questo servizio Cristina Ferrini. Nella lista dei candidati alle elezioni comunali di Bari nel 2019, al centro dell'indagine Codice Interno, compareva anche il nome della coniata di Savino Parisi. La donna incensurata era candidata nella lista civica Sport Bari a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pasquale Dirella. E quanto emerge dalle chat tra alcuni esponenti dei clan Palermiti e Parisi? La coniata di Parisi era in corsa nel primo municipio, ovvero il quartiere Iapigia, sotto legida del clan di Savinuccio, e ottenne 21 preferenze. Ma nella lista Sport Bari fu poi eletta consigliera comunale Francesca Ferri, arrestata nel 2022 per voto di scambio. Ferri, eletta con il centrodestra, era passata da pochi mesi con il centrosinistra. L'indagine di Polizia Codice Interno a febbraio scorso portò all'arresto di 130 persone, tra queste anche Carmen Lorusso, consigliere eletta con il centrodestra e poi passata nella maggioranza di centrosinistra, e il suo marito Giacomo Livieri, ex consigliere regionale. Le indagini hanno spinto il Vimiale a inviare a Bari una commissione ministeriale per accertare l'esistenza di infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale, secondo quanto sarebbe emerso da alcune delle pagine contenute nel fascicolo d'indagine, i palermiti avrebbero manifestato ai Parisi perplessità sulla candidatura della cognata del boss, e i timori che la donna potesse rivelare dettagli sugli attività dei clan agli inquirenti. Ricordiamo che proprio dalla inchiesta Codice Interno è poi partito il lavoro della commissione che in questi giorni ha consegnato al prefetto il proprio lavoro di indagine per valutare sulle eventuali infiltrazioni mafiosi anche la possibilità di scioglimento del Comune di Bari. Proprio su questo tema, questo è stato uno dei temi di cui ha parlato il commissario straordinario Mauro Dattis di Forza Italia, che ha spiegato un po' alcune delle sue affermazioni dei giorni scorsi e poi ha lanciato la corsa per le regionali. Vediamo questo servizio. Un invito all'intera coalizione per ascoltare maggiormente la moderata del centrodestra, un ritorno sul tema dei commissariamenti per mafia con il richiamo diretto alla situazione di Bari, la campagna dedicata alla sanità. Forza Italia prova a lanciare segnali per il futuro con la presentazione dell'iniziativa Operazione Sanità, un tour di tutte le strutture ospedaliere della regione Puglia, un'occasione per porre le basi per il futuro in ottica elezioni regionali. Il partito creato da Berlusconi ha già il suo nome per il candidato presidente che sarà sottoposto alla coalizione. A spiegarlo è stato il commissario regionale Mauro Dattis che ha dunque lanciato la corsa elettorale. Io penso che se riusciamo a comunicare ai pugliesi che abbiamo l'uomo giusto e soprattutto vogliamo fare certe cose, non è un problema di tempo, il tempo sarà diciamo relativo e quindi potrebbe essere anche la primavera del 2025 la scelta del candidato presidente. Prima di quella tappa però continua a tenere banco la questione dei commissariamenti per mafia. Nei giorni scorsi lo stesso Dattis si era soffermato sulla necessità di cambiare le norme che disciplinano gli scioglimenti. Oggi ha tenuto a precisare quelle affermazioni con esplicito riferimento alla situazione di Bari. Ci sono stati comuni che per molto poco sono stati sciolti e ci sono comuni che per molto ma molto di più diciamo sono subiudice. Uno di questi secondo me è il comune di Bari. E ora ulteriori aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it.it. Italo 5 Palmi, vengo da te. Sì Roberto, la direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal tribunale di Bari nei confronti di un pluri pregiudicato ritenuto storico referente del clan Parisi, già condannato per associazione di stampo mafioso, riciclaggio, ricettazione, detenzione, traffico di incenti quantitativi di droga e omicidio colposo. Le indagini avrebbero consentito di dimostrare come il destinatario del provvedimento ritenuto socialmente pericoloso abbia accumulato un patrimonio di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Il sequestro è riguardato complessivamente un compendio patrimoniale costituito da 13 immobili, auto con tanti, diverse disponibilità finanziarie. I beni formamente intestati a prestanome ma riconducibili al pluri pregiudicato hanno un valore di circa 3 milioni di euro. E chiudiamo, non si sarebbe accorto che l'altezza del sottopasso ferroviario era inferiore a quella del rimorchio del suo camioncino e il mezzo si è incastrato sotto il ponte. È successo in strada rurale del torrente la via che collega quartieri Fesche, San Paolo, Bari. Il furgone non è riuscito ad attraversare il ponte rimanendo bloccato e danneggiato. L'incidente non ha causato feriti sul posto intervenuto dalla polizia locale che dopo i rilievi del caso e per permettere la rimozione del mezzo ha dovuto chiudere la strada per quasi tre ore. Bene, con questo è tutto per oggi. A te buona giornata. Grazie Italo Cinquepalmi. Noi proseguiamo perché mancano poche ore all'inaugurazione della Fiera del Levante, l'87esima edizione. Lo ricordiamo, la seguiremo con la nostra emittente, con tutte le bari, la diretta proprio della cerimonia inaugurale. che avverrà la presenza del Ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Allora, tutte le anticipazioni da Serena Russo, direttamente dalla Fiera del Levante. Serena. Buon pomeriggio a te, a tutti i nostri ascoltatori. Siamo all'interno della Fiera del Levante, circa 24 ore prima della cerimonia inaugurale. Quindi manca davvero pochissimo. Come potete vedere qui c'è grande fermento, tutti gli stand sono in allestimento. Alle mie spalle potete già notare una delle grandi novità di quest'anno. Un cielo di luminarie che saranno accese poi a partire dall'inaugurazione in poi. Lo sapete, l'apertura è il pubblico subito dopo la cerimonia inaugurale, quindi a partire dalle 14 alle 14.30. E poi mancabili i settori dell'automotive, dell'arredamento e poi ovviamente la Galleria delle Nazioni. Pensate, 400 espositori, più il 40% in più rispetto allo scorso anno. E tra le novità quest'anno proprio della Galleria delle Nazioni, la presenza all'interno, oltre delle classiche attività che ci avvicinano alle culture degli altri paesi, ci saranno anche delle vere e proprie delegazioni, anche ambasciate e associazioni di categoria. Questo nuovo concept rientra nel nostro progetto di internazionalizzazione, affermato infatti il presidente di Nuova Fiera d'Elevante, Gaetano Frulli. Ospiteremo paesi con i quali abbiamo avuto un dialogo per scambi commerciali. E poi gli spettacoli di eventi gratuiti per tutti i visitatori. All'interno del quartiere fieristico, durante l'orario espositivo, ci saranno esibizioni viaggianti a cura del Circo Bianco, una compagnia di performers che proporrà performance originali ed emozionanti lungo i viali. A partire dalle 20.30 sarà poi aperta l'area eventi che proporrà un ricco e vario cartellone di iniziative, tra cui spettacoli live e DJ set. Ci saranno i Corona, Paolo Meneguzzi, Alexia, Valeria Rossi, Iduci, Luca Dirisio, Sugar Free, Davide De Marini, Seglia Di Capongo, farà tappa inoltre in Fiera d'Elevante, Renato Ciardo, con il suo Cantatur che ospiterà la band di Rotta su Cuba. L'evento è organizzato da Telebari. Immancabile come sempre il nostro spazio, quindi targato Telebari e Radiobari all'interno della Fiera d'Elevante. Proprio da qui, da questa posizione, a due passi dall'ingresso agricoltura, trasmetteremo tutti i giorni i nostri telegiornali, il TB Sport e poi lo speciale Fiera d'Elevante a cura della direttrice responsabile di Telebari e Radiobari, Maddalena Mazzitelli, a partire dalle 13.45. Appuntamento dal prossimo lunedì 30 settembre. E i preparativi fervono anche all'interno del Centro Congressi, che domani a partire dalle 10.30 ospiterà personalità e istituzioni per la cerimonia inaugurale. Primo discorso per Vito Leccese, che è fresco di elezioni a sindaco di Bari, concentrerà il proprio discorso su un tema già battuto a Palazzo di Città. Si parlerà infatti di emergenza a casa, rivolgendo probabilmente qualche appello al Governo nazionale, che ha da poco soppresso il Fondo nazionale per gli affitti. Il primo cittadino parlerà anche di disagio e fragilità sociale, per poi concludere con un appello per la pace. Sul nuovo concept di Fiera d'Elevante si concentrerà invece il presidente di Nuova Fiera, Gaetano Frulli. Una fiera costruita intorno agli espositori spiega che con i suoi soci, Camera di Commercio e Bologna Fiere, farà tutto ciò che serve per riqualificare le aree in concessione. E dunque, come detto, seguiremo su Telebari l'inaugurazione della Fiera d'Elevante, ma nel frattempo invece parliamo di un'altra iniziativa che si sta tenendo in queste ore nella città di Bari. E non solo, parliamo della Notte dei Ricercatori, una notte che però si allarga, iniziata già da questa mattina in Piazza Umberto, con tanti stand che stanno consentendo un po' di toccare con mano il lavoro della ricerca che viene fatto in Italia. Andiamo a vedere l'iniziativa. E' uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società, promosso sin dal 2005 dall'Unione Europea. Torna anche a Bari la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un'occasione unica di incontro tra la cittadinanza e il mondo della ricerca. L'appuntamento è iniziato sin dalla mattina con 60 stand in Piazza Umberto, all'interno dei quali i ricercatori hanno potuto mostrare i propri lavori. Noi ci occupiamo di mostrare come funziona il cervello, come funziona il funzionamento cerebrale, quindi i lobby, come vengono processati. Facciamo giocare le persone con le emozioni. Stiamo mostrando i risultati preliminari di alcune delle nostre ricerche. Noi siamo dei dottorandi dell'Università di Bari, in particolare ci occupiamo di informatica e di intelligenza artificiale. Questo è il nostro lavoro di ricerca sull'isolamento di microplastiche da campioni di molluschi bivalvi. In particolare noi lavoriamo su cozze ostriche e vongole. Perché i molluschi bivalvi? Perché sono quelli che ingeriamo per intero, mentre i pesci sono generalmente viscerati. E poter toccare con mano l'oggetto del lavoro ai ricercatori accorciato alla distanza con i cittadini, in tanti incuriositi da computer, microscopri e modellini, hanno colto l'occasione per avvicinarsi a questo mondo. Per me è un orgoglio portare comunque quello che io studio, quello con cui lavoro, sia con i patogeni che con le piante. E far comprendere l'importanza, anche soprattutto adesso che stiamo nel cambiamento climatico, risolvere sia problemi dal punto di vista biotico che abiotico. E naturalmente, come hai detto, le iniziative proseguiranno nel corso della giornata fino a stasera. Quindi potete andare direttamente a conoscere i ricercatori in Piazza Umberto. Ma proseguiamo. Parliamo dell'operazione Mare-Laghi Sicuri della Capitaneria di Porto, effettuata su 100 km di costa pugliese. Vediamo questo servizio. 1.049 sanzioni amministrativi, 84 notizie di reato, 27.329 controlli, sia a mare sia a terra, 38 unità da di porto soccorse, 182 persone salvate e assistite. Sono alcuni dei numeri dell'operazione Mare-Laghi Sicuri 2024, che ha visto impegnati lungo i 1.000 km di costa pugliese ogni giorno, 200 donne e uomini del corpo delle Capitanerie di Porto. Negli uffici marittimi Mare-Impattuli a terra, con l'obiettivo di garantire sicurezza a bagnanti e di portisti. L'impegno del corpo anche nei contesti lacustri, oltre 3.300 e i controlli su spiagge libere in concessione, che hanno portato a 54 verbali amministrativi per violazione dell'ordinanza balneare e al sequestro di aree demaniali e attrezzature, trasraio, lettini e ombrelloni, restituendo così a libera fruizione circa 5.500 m2 di spiaggia abusivamente occupata. Il bilancio dell'operazione Mare-Laghi Sicuri, iniziata il 16 giugno, è stato tracciato dal contramiraglio Vincenzo Leone. L'operazione quest'anno l'abbiamo doverosamente chiamata anche Laghi Sicuri, è stata intensa, è stata appassionata, è stata anche caratterizzata da piacevoli novità. Le piacevoli novità sono state queste. Siamo riusciti anche grazie a una sperimentazione che stiamo conducendo insieme al Comando Generale, proprio in quest'area marittima, ad incrementare la nostra presenza in mare e lungo le coste. È uno sforzo molto importante che ha prodotto maggiori controlli. A fronte di questi maggiori controlli le infrazioni rilevate sono diminuite. Ed Eco Program punta sulla Puglia, la società di logistica integrata attiva da oltre 20 anni, ha inaugurato un nuovo ABBA Bari, fornirà ai cittadini i numerosi servizi legati al mondo dell'automotive. Il servizio è di Giuseppe Bellino. Uno spazio innovativo, in grado di offrire nuove soluzioni ai baresi. Eco Program Flotte, società di logistica integrativa attiva da oltre 20 anni, punta sulla Puglia, ha inaugurato un imponente hub, già conosciuto come sede Ariel Car, in via Pasquale alla Rotella. Offrirà numerosi servizi legati al mondo dell'automotive, dal noleggio a breve e lungo termine, passando per la vendita dell'usato garantito. In esposizione ci sarà un'ampia gamma di veicoli nuovi e usati. Il concetto è arrivo con la mia macchina usata, io da privato, entro nello store e esco con una nuova macchina. Tutta preparata, tutta bella, che sia nuova, che sia ricondizionata, trovo qualunque forma di prodotto auto, ma anche di finanziamento o di noleggio. Un investimento importante per la Puglia, ma anche per tutto il sud Italia. Abbiamo deciso di ulteriormente investire sullo sviluppo delle nostre attività in Puglia, perché è un mercato che ha bisogno dei nostri servizi, sia di logistica integrata, di preparazione dei veicoli, principalmente per i noleggiatori, ma non solo, della consegna a domicilio e tanti altri servizi che estendiamo oggi attraverso un ulteriore investimento. Ecco Program Flotte lancia anche il servizio OffiClick. Arriva in Puglia la prima officina a domicilio italiana. Stop a lunghe code dal gommista, un van dotato di attrezzatura completa, eseguirà tutti gli interventi ordinari e straordinari. I clienti potranno prenotare l'intervento con un semplice click. Siamo davanti a un furgone super innovativo che anche stasera lanciamo sul mercato pugliese, che è l'officina mobile, che praticamente viene a casa tua a fare la manutenzione e il cambio gomme della tua macchina. E questo servizio è incluso nel canone di noleggio che uno viene a prendere qui. Quindi OffiClick, il nostro servizio di officina a domicilio, parte anche sulla Puglia. Andiamo avanti con le notizie che ci arrivano dalle altre province. Andiamo in Capitanata, sono Del Foggiano, i sei ladri attrestati a Livorno con l'accusa di aver rubato veicoli commerciali in diverse località del centro Italia. Vediamo il servizio di Nicola Saracino. Sono tutti originari Del Foggiano, i sei ladri arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, specializzati nella furto di furgoni e camion che venivano ripuliti e rimenduti all'estero, in particolar modo in Polonia, grazie a modifica dei documenti o da alcune parti dei mezzi. L'indagine, avviata dopo la segnalazione della locale Confederazione Nazionale dell'Artigianato, che notava un'anomala impennata di furti di furgoni autocari nel territorio di Livorno, è stata sviluppata dal luglio 2023 allo scorso febbraio. Non si tratta di semplici furti, ma di condotte organizzate, pianificate e realizzate, in particolare 41, quelli ricostruiti, durante l'indagine e commessi in gran parte della regione toscana, nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze, nonché nella Repubblica di San Marino e nelle province di Ravenna e Peserubino. Il modus operandi era sempre lo stesso nei giorni vasettimanali lavorativi, nei quali i ditte e gli artigiani sono in piena attività e si registrano più spostamenti. Gli indagati raggiungevano il centro Italia e dovevano aver individuato il furgone autocarro, monitoravano rapidamente il conducente e una volta che si era allontanato, veniva aperta in pochi secondi la portiera del veicolo, sbloccato il vano motore, dove veniva manomessa la centralina ed isolato l'eventuale presenza di un GPS. Tutta l'operazione si concludeva in maniera molto rapida, talvolta addirittura in meno di un minuto, rendendo impossibile per le vittime accogliersi del furto. E ora invece andiamo a Trani dove è stato inaugurato il Family Lab, una struttura a sostegno sociale per le famiglie fragili. Ce ne parla Massimo Pillera. Si è aperto a Trani il Family Lab, che aprirà ufficialmente le sue porte alla cittadinanza a partire dal 1 ottobre 2024. Il Centro Servizio per le Famiglie integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile e adolescenziale. Per questo importante momento della vita della comunità locale, l'ambito territoriale di Trani e di Biceglie, in collaborazione con Lati, formata dalla cooperativa sociale Shalom, Vivere Insieme e dal Consorzio Metropolis, ha organizzato una grande festa, divertente e colorata, mobilitando il quartiere e le tante famiglie intervenute con giochi ed attività interattive in collaborazione con il Circo Uau, partner del progetto. Il Centro Servizi per le Famiglie rappresenta una proposta di prossimità per le famiglie che ha l'obiettivo di avviare un presidio permanente di riferimento ed essere luogo di prevenzione e cura delle fragilità familiari. Il Centro è finalizzato alla promozione delle competenze genitoriali attraverso l'incentivazione di tutti i processi di facilitazione e sostegno delle relazioni familiari. E andiamo avanti, ha inaugurato a Taranto il 63esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, il servizio di angelo in genito. Alle 15 di ieri, il 26 settembre, si è inaugurata la 63esima edizione del convegno internazionale sulla Magna Grecia, tenutasi nel salone di rappresentanza della provincia di Taranto. Il tema di quest'anno è miti e culti eroici in Magna Grecia, già trattato nel 1996. Il convegno, che si svolgerà dal 26 al 28 settembre, vedrà la partecipazione di 40 relatori, tra cui studiosi italiani ed internazionali, che discuteranno aggiornamenti teorici e metodologici riguardanti le figure eroiche e le loro problematiche antropologiche, storico-religiose e mitologiche letterarie. Inoltre, parteciperanno anche i 12 vincitori delle borse di studio, messe a disposizione da varie associazioni tarantine. Abbiamo dato inizio alla 63esima edizione del nostro convegno, un convegno ormai consolidato. I tarantini, ma tutti gli studiosi della storia antica di questo territorio dell'Italia meridionale, attendono con grande gioia questo momento per poterci rincontrare, confrontare, discutere, cementare amicizie, ma anche scrivere insieme dei progetti da portare avanti. Sempre insieme. Quest'anno si parla, come al solito, di archeologia, di storia, ma anche di economia, di epigrafia, di antropologia e un convegno interdisciplinare, caratterizzando appunto da queste peculiarità. noi cerchiamo di fare il massimo, alla fine del convegno faremo un bilancio. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. L'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social, sul nostro sito www.telebari.it. A tutti un buon proseguimento di giornata. www.telebari.it.it www.telebari.it.it